Presidente, è giusto dire che questa figura del sottosegretario è stata sdoganata finalmente oppure bisogna usare un termine diverso? Ma anche l'Abruzzo si dota di questa figura che è una figura di ausilio del buon governo e dell'attuazione del programma. È una figura che non comporta oneri, ma comporta soltanto il dovere dell'esperienza e il dovere di far coincidere i fatti con le premesse programmatiche. Sono molto contento del come il Consiglio regionale procede, non mi pare che ci sia un atteggiamento di inciviltà. Per me va bene chiunque voglia dimostrare la sua esistenza in vita, anche le figure delle tribune della collocazione politica oppositoria. Per il resto vedo un Consiglio regionale che si è messo in cammino nel determinare anche fruttuosità normativa, fruttuosità amministrativa. Io quello che porrò all'attenzione dell'Abruzzo e del Consiglio regionale è la legge regionale obiettivo a giorni e una legge che azzera i tempi di istruttoria per la vita delle imprese. La regione deve essere un canguro che accoglie dentro di sé le esigenze del mondo delle imprese. Nominato il direttore generale dell'ASL a Teramo, adesso quali sono i prossimi passi sulla sanità? Intanto dobbiamo completare la governance dell'ASL di Teramo e poi fare in modo che quantità e qualità dell'offerta siano su misura della quantità e della qualità della domanda. Dobbiamo azzerare la mobilità passiva, dobbiamo restringere fino all'inverosimile le liste d'attesa e dobbiamo fare in modo che ciò che si compara come prodotto di salute corrisponda a quello che nei fatti serve agli abruzzesi, che non sempre c'è questa coincidenza. I flussi di denaro non fa da seguito la qualità dell'offerta di salute. Su questo dobbiamo scommettere su chi ci lavora nel mondo della sanità e dobbiamo determinare una regola, l'appropriatezza della domanda e l'appropriatezza della risposta di salute. Deospedalizzando la sanità, territorializzandola, facendo coincidere gli ambiti sociali con i piani sanitari. Noi dobbiamo determinare la coincidenza tra il distretto sanitario e l'ambito sociale in maniera tale che ogni volta quando c'è il presentarsi di una debolezza o della perdita di autonomia la risposta non sia il ricovero ospedaliero, ma magari basta semplicemente una risposta sociale, di assistenza sociale.